In questa investigazione di tempo e spazio oggi vi vorrei parlare di Clara Liden. Clara Liden ha avuto una mostra personale a Musaion nel 2013, il titolo della mostra era Inbalin Strasse. Molto spesso Clara Liden si appropria di oggetti quotidiani con il proprio corpo, quindi questa proporzione fisica è sempre molto importante all'interno del suo lavoro. In mostra avevamo una scultura che pendeva dal soffitto, una scultura molto semplice fatta di due cartoni messi uno dentro l'altro che si muovevano lentamente, forse qui si può vedere un po' l'immagine di questa scultura dal titolo Box Box e quindi la scultura poteva diventare rifugio ma anche microcosmo per dare libero sfogo alla propria immaginazione. Quando ho chiesto a Clara dico ma per te cosa significa questa scultura, lei mi dice ma non so, forse è anche una discoteca, lei sa che a me piace molto ballare e quindi così durante le ore d'ufficio ogni tanto andavo al terzo piano, infilavo su la scultura e facevo finta di essere in discoteca. Così, questo è tutto.